Ciao ragazzi, oggi vorrei parlarvi di Osservatorio Lupi Genova. Ne parlo sempre nei video, però magari qualcuno non sa ancora di che cosa si tratta. L'Osservatorio Lupi fa parte del WWF, praticamente è formato da gruppi di volontari che, con l'utilizzo soprattutto delle fototrappole, vanno a osservare quello che è appunto la presenza del lupo nel proprio territorio e poi si vanno a fare degli eventi divulgativi, affiancati anche con persone esperte, per andare ad abbattere quelle che sono fake news, che sono le paure ingiustificate delle persone nei confronti del lupo e quindi puoi parlarne tutti insieme, rispondere a eventuali domande, dubbi e curiosità. L'Osservatorio Lupi è nato inizialmente in Emilia con gli Osservatori Lupi Fidenza e Valdenza e poi siamo stati contattati io e Nicolò per allargare quella che era la presenza dell'Osservatorio Lupi in Italia e quindi di fondare, diciamo, l'Osservatorio Lupi Genova, quindi un Osservatorio Lupi che andava a osservare la presenza del lupo nei territori genovesi. Quindi con i video che noi creavamo per fototrappolaggio a Liguria davamo anche un contributo all'Osservatorio Lupi, quindi quando beccavamo qualche video di lupi come questo qua che vedete alle mie spalle, lo utilizzavamo anche per l'Osservatorio. Poi abbiamo accolto all'interno dell'Osservatorio Lupi Genova altre persone che sono entrate a far parte del nostro gruppo e quindi con i video che noi realizziamo, con le fototrappole, con eventuali segnalazioni che ci vengono fatte dalle persone tramite la mail che è osservatoriolupi.wfgenova.gmail.com utilizziamo tutti questi dati per fare poi degli eventi che siano divulgativi e che facciano conoscere questo animale per quello che realmente è. Quindi ho fatto questo video tanto per dirvi a grandi linee che cos'è l'Osservatorio Lupi in vista anche poi di quell'open day all'agriturismo Pensa del 2 luglio in cui saremo presenti anche noi, dove faremo una breve presentazione e poi si può passare la giornata tutti insieme, noi saremo lì tutto il giorno. Vi invito a seguire la pagina Facebook di Osservatorio Lupi Genova Penso che in futuro faremo anche una pagina Instagram, però per ora siamo su Facebook e per segnalazioni, per qualsiasi cosa, la mail è quella che vi ho detto poi la metterò anche qua sotto nel video da qualche parte osservatoriolupi.wfgenova.gmail.com Ora comunque stanno nascendo tanti osservatori sparsi per tutta Italia quindi magari se non siete di Genova, non siete dell'Emilia ma siete di altri posti in Italia magari se guardate su Facebook potete cercare se è presente un osservatorio Lupi nella vostra città e così se avete delle segnalazioni da inviare le inviate direttamente a loro. Niente, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ai prossimi fototrappolaggi. Ciao ragazzi!